Buongiorno, l'obiettivo di oggi sarà quello di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 4. Direi di partire subito da Eclipse, come al nostro solito, e vedere un po' qual è la situazione di partenza. Allora, partirò con tre packages. Un package che contiene il consoleore, un package contenente il modello, vediamo, avremo diverse classi di cui avremo modo di parlare, e un package dedicato al DAO. L'obiettivo di questo laboratorio è proprio quello di familiarizzare col pattern DAO. Direi di partire dando un run del main per vedere cosa ci aspetta. Partiamo da un'interfaccia grafica già implementata che riassume un pochettino quello che vorremmo poter fare. L'obiettivo sarà quello di consultare un database per ottenere diverse informazioni. Ad esempio, qua in alto potremmo scegliere un corso e cercare gli iscritti del corso, oppure potremmo scrivere qua una matricola e cliccando su questo bottone vorremmo poter vedere l'autocompletamento, ovvero nome e cognome, relativi a questa matricola, sempre se questa matricola è presente. Per una data matricola potremmo cercare i corsi a cui la matricola è stata iscritta, oppure potremmo iscrivere una matricola ad un determinato corso. In ultimo, cliccando su Reset, vorremmo poter pulire completamente l'interfaccia. Direi che ormai l'obiettivo è chiaro, possiamo andare a vedere come è stata implementata l'interfaccia. Passiamo su SimBuilder. La struttura, come sempre, è quella di un BorderPane, ovvero abbiamo appunto diversi elementi. L'elemento centrale del BorderPane è quello che più ci interessa. L'elemento centrale è formato da un V-Box. Il V-Box contiene diversi elementi. Quali sono questi elementi? Abbiamo un H-Box qua in alto, un bottone appena sotto, un altro H-Box, un altro H-Box, una textarea e un bottone di Reset. Questi sono tutti gli elementi che formano il nostro Vertical Box. I vari H-Box a loro volta contengono diversi elementi. Ad esempio, il primo H-Box, un Label, Label Corso, e il Combo Box, Corsi. L'altro H-Box, ad esempio, lo studente, il TextField, il bottone, il TextField e l'altro TextField. L'ultimo H-Box contiene i due bottoni, Cerca Corsi e Iscrivi. Importante, quello che vogliamo fare, è poter andare a interagire con questi elementi dell'interfaccia grafica. E quindi, ad esempio, clicchiamo qua in questo TextField, andiamo in su Code, e vedremo che avremo un certo ID per interagire con questo elemento. Ad esempio, sul bottone Completamento Automatico, abbiamo un ID e un metodo associato a DuCercaNome. Per Iscrivi, avremo un DuIscrivi, da CercaCorsi, DuCercaCorsi, e così via. E Reset. DuReset. Direi che, per quanto riguarda l'interfaccia grafica, abbiamo un po' capito di che si tratta, possiamo ritornare su Eclipse. Allora, l'obiettivo di oggi è quindi quello di andare a interagire con Database. Prima di tutto, quindi, vorremmo capire come questo Database è fatto. Allora, abbiamo tre tabelle, una tabella corso, una tabella iscrizione e una tabella studente. Con queste tre tabelle abbiamo tutti i dati che ci servono. Corso, abbiamo il codice del corso, dell'insegnamento, il numero di crediti, il nome del corso e un altro dato. Iscrizione, abbiamo, forse questo è meglio vederlo dopo, guardiamo prima studente, matricola, cognome, nome e un certo CDS, un corso di studi. Quindi, queste sono tutte le informazioni relative allo studente. Qua abbiamo tutte le informazioni relative ai corsi, qua, appunto, in iscrizione, avremo un match tra matricola, codice del corso a cui è iscritto. Direi che, a questo punto, abbiamo un'idea di come il nostro Database è fatto. Possiamo passare su, appunto, su Eclipse. Allora, partirei questa volta dal modello e cercherei di capire come è stato fatto. Abbiamo, per tradurre in sostanza il nostro Database nel mondo Java, delle classi. Una classe corso, classe corso, ve la presento già implementata, è una classe che cerca di rappresentare, appunto, il corso, quello che abbiamo appena visto nel Database. Quindi avremo un codice di insegnamento, un nome, il numero di crediti e il PD, il periodo didattico. A questo punto, avremo un suo costruttore, un costruttore completo, in questo caso, o un costruttore semplice, in cui basta il codice di insegnamento. E poi avremo una serie di getter e setter. Oltre a ciò, abbiamo i soliti hashcode e equals, per, appunto, permettere di confrontare questi elementi. E, oltretutto, in questo caso, il corso implementa comparable, scusate, e quindi ci troviamo il metodo compareTo. Il metodo compareTo, in questo caso, come potete vedere, va a comparare nome di un corso con nome dell'altro corso. E con nome, appunto, abbiamo ciò che ci è stato inserito nel costruttore. Allora, direi che per corso ci siamo, l'altra classe da vedere è studente. Studente è del tutto analoga, ve la presento già implementata, sempre per lo stesso motivo, per cui non c'è nulla di, particolarmente, nulla di concettuale, abbiamo semplicemente la trascrizione, la traduzione, nel mondo Java della tabella, quindi uno studente è tale se ha una matricola, che è la chiave primaria, un cognome, un nome e un corso di studi. Abbiamo un costruttore semplice, in cui basta la matricola, un costruttore completo, in cui abbiamo matricola, cognome, nome e corso di studi. Allora, getter e setter e un toostring finale, per avere, appunto, una stampa per il nostro oggetto studente. Queste sono, quindi, queste sono le due classi principali. Adesso, in qualche modo, esco dal package model per andare a implementare il DAO vero e proprio. Sul modello ci torneremo in un secondo momento. Portiamo, appunto, la corso DAO. Come vedete, abbiamo due classi, una relativa al mondo dei corsi e una relativa al mondo degli studenti. Ovviamente, si potrebbe comprimere tutto in una classe, però, così, concettualmente, è tutto molto più separato, tutto molto più pulito. Passiamo a corso DAO. Ciò che vorremmo fare, nel primo metodo, get tutti i corsi, è ricevere tutti i corsi salvati nel database. Questo metodo, essendo il primo, lo implementeremo insieme e cercheremo di capire come contattare, appunto, e ricevere informazioni dal database. Partiamo definendo una stringa SQL, final string SQL, in cui andiamo a scrivere l'interrogazione che vogliamo fare al nostro database. Quindi, select tutto from corso. E questo è proprio ciò che vogliamo chiedere al nostro database. Vogliamo selezionare tutti i corsi, appunto, dalla tabella corso. Prima di andare avanti, scusate, è buona norma testare questa stringa, per evitare poi di andare avanti col codice, fare un errore, magari l'errore era semplicemente un errore stupido in questa stringa, non ce ne accorgiamo e poi il debug diventa molto più difficile. Quindi, andiamo a testare questa stringa, questa query, l'andiamo a query, otteniamo tutte le informazioni dei corsi, appunto, da corso. In questo caso la query era facile, però potremmo avere query anche molto più complesse. Allora, torniamo nel nostro mondo Java e andiamo avanti. A questo punto, list di corso è ciò che vorremmo ottenere. Quindi, corsi uguale new, possiamo implementarlo come link list di corso. Ok. A questo punto, il primo passo è sempre aprire la connessione. Quindi, connection, ci appoggiamo su una classe ConnectDB. Perché facciamo ciò? Per diversi motivi. Prendiamo la connessione da questa classe, che ora andiamo a vedere. ConnectDB è una semplice classe in cui l'unica cosa che andiamo a fare è appoggiarci su Driver Manager e fare Get Connection di JDBC URL. Ovviamente, in questo caso, l'unica cosa che ci risparmiamo di fare qua è quella, appunto, di scrivere tutte le volte JDBC URL e poi appoggiarsi sul Driver Manager. Se dovessimo cambiare il JDBC URL, lo possiamo cambiare solamente qua e non in tutti i metodi del DAO. e quindi è un primo vantaggio. Prossimamente, nei prossimi lavoratori, avremo modo di utilizzare il concetto di Connection Pooling e quindi vedremo come questa classe ConnectDB diventi particolarmente importante. Prendiamo questa abitudine e quindi la connessione prendiamola da una classe ConnectDB che per ora, appunto, si appoggia su Driver Manager. ConnectDB, Get Connection. Tripper Statement Tripper Statement St A questo punto prepariamo lo Statement SQL A questo punto ci viene suggerito di usare un TryCatch per evitare di avere problemi con le eccezioni quindi abbiamo la connessione il nostro Prepare Statement a questo punto possiamo avere il nostro Result Set RS uguale st punto eseguiamo la query a questo punto e quindi avremo i nostri risultati in RS quindi finché RS punto Next ovvero finché abbiamo dei risultati facciamo qualcosa cosa dobbiamo fare in questo caso i nostri risultati sono dei corsi quindi corso s uguale new corso e andiamo a prenderci tutto tutti i dati che ci servono RS punto get string codings poi RS punto get string questa volta nome RS punto get int ok si chiama crediti l'ultimo dato che ci serve è RS get int periodo didattico ovviamente scritto così ok ci siamo abbiamo corsi possiamo aggiungere il corso al nostro alla nostra link list ciò fatto abbiamo terminato e quindi tutte le volte ci dobbiamo ricordare di chiudere la connessione forse è meglio farlo all'inizio così evitiamo di dimenticarcelo e poi return corsi a questo punto con questo metodo riusciamo a contattare il database prendere la connessione abbiamo il nostro statement la nostra query la eseguiamo cicliamo sui risultati prendiamo il nostro corso lo aggiungiamo al nostro link list e poi lo ritorniamo dopo aver chiuso la connessione a questo punto possiamo passare al metodo successivo get studenti iscritti al corso questo metodo per ora ve lo presento già implementato perché presenta una difficoltà in più poi avremo modo di implementare un altro metodo molto simile per applicare ciò che abbiamo visto allora la prima diversità rispetto al metodo precedente è che in questo metodo get tutti i corsi nessun parametro esterno viene passato in questo caso invece il metodo ha un parametro corso cosa cambia nella struttura non moltissimo però qualcosa cambia partiamo come sempre definiamo la stringa SQL in questo caso la query sarà un pochettino più complessa vogliamo selezionare gli studenti iscritti a un determinato corso quindi select tutto from iscrizione studente e dove qual è la condizione di join che iscrizione matricola sia punto matricola sia uguale a studente punto matricola e che il codice di insegnamento sia un determinato codice che per ora fissiamo con un punto di domanda a questo punto come sempre ci definiamo ciò che vogliamo ritornare ovvero una lista di studenti in questo caso possiamo fare studenti iscritti al corso ognuna di list di studente poi come prima cosa facciamo connessione ci appoggiamo su connectdb prepare statement connection punto prepare statement SQL a questo punto questa è la stringa in più rispetto a prima per evitare il problema dell'sql injection cosa facciamo andiamo a sostituire questo punto di domanda con l'informazione che abbiamo e che deriva dal parametro che ci viene passato dall'esterno quindi ast settiamo la stringa in che posizione 1 in questo caso perché abbiamo un solo punto appunto di domanda quindi sarà per forza il primo punto di domanda e andiamo a inserire corso appunto get codice di insegnamento di qui in poi nulla cambia poiché ragniamo la query cicliamo sui risultati studenti scusate studenti iscritti al corso punto ad e andiamo ad aggiungere il nuovo studente con tutte le informazioni del caso chiudiamo la connessione e possiamo ritornare studenti iscritti al corso questo ultimo metodo iscrivi studenti al corso è un metodo un pochettino più complesso che possiamo sviluppare alla fine a questo punto possiamo passare direttamente a studente dao e implementare insieme il primo metodo il primo metodo il studente iscritto a corso ritorna un booleano e controlla se uno studente appunto è iscritto ad un corso i parametri di ingresso in questa volta sono addirittura due studente e corso questa cosa non cambia troppo lo sviluppo del metodo però possiamo in questo caso svilupparlo insieme facendo tesoro di ciò che abbiamo appena osservato quindi partiamo dalla stringa sql come sempre select punto from iscrizione where codice di insegnamento è uguale a punto di domanda and matricola non fa differenza ma preferisco così matricola ok prima di andare avanti come sempre preferisco testare la stringa sql onde evitare di avere dei problemi successivamente quindi allora select tutto from iscrizione where codice di insegnamento ne prendiamo una a caso matricola 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 prendiamo la matricola di uno studente iscritto al corso testiamo ramiamo perfetto vediamo che la matricola è iscritta al corso quindi la nostra query funziona possiamo ritornare a questo punto a sviluppare il nostro metodo questa volta il valore di ritorno è un semplice booleano che chiamiamo return value ovviamente il nome non è significativo o meglio qualsiasi nome va bene purché per noi abbia un significato ci basiamo all'apertura della connessione su connectdb get connection a questo punto prepared statement st uguale connection punto prepare statement sql molto bene come sempre ci serve un try catch quindi partiamo da qua abbiamo il prepare statement cosa ci serve dobbiamo fissare i parametri per poi rannare la query per evitare sql injection facciamo st settiamo la stringa primo punto di domanda dobbiamo inserire corso punto get codice di segnamento e poi stessa cosa analogamente quindi al secondo punto interrogativo dobbiamo andare a sostituire studente punto get matricola a questo punto abbiamo il nostro result set rs st punto execute quindi e possiamo chiederci se rst punto next ovvero abbiamo un risultato se abbiamo un risultato sappiamo che lo studente è scritto al corso quindi return value possiamo metterlo a true in questo caso non abbiamo bisogno di ciclare altrimenti return value rimarrà fissato a false chiudiamo la connessione e ritorniamo possiamo farlo anche qua return value ritorniamo appunto il valore booleano che ci siamo calcolati a questo punto sappiamo adesso come gestire praticamente tutte le query e sequele anche quelle in cui abbiamo dei parametri provenienti dall'esterno vi presento ora qualche metodo già implementato perché appunto la struttura è sempre la stessa l'unica cosa appunto cambia la query in questo metodo getcorsifromstudente cerchiamo di dato uno studente ricavare tutti i corsi quindi facciamo la query in questo caso select from iscrizione corso dove iscrizione codice di insegnamento è uguale al corso codice di insegnamento e la matricola è quella corretta allora avremo dei risultati si spera quindi ci costruiamo la nostra struttura dati list di corso in questo caso perché è questo che dobbiamo ritornare connessione prepare statement settiamo al primo punto di domanda è l'unico che c'è la matricola eseguiamo la query cicliamo sui risultati cicliamo dei corsi aggiungiamo corso chiudiamo la connessione tutto molto stando standard ultimo metodo get studente in questo caso abbiamo una matricola quindi ciò che dobbiamo fare è partire con la nostra string sql select punto tutto da studente dove la matricola è quella che ci viene data in pasto quindi apriamo la connessione ci basiamo su connect tb prepare statement poi andiamo a settare il dato mancante cicliamo su ci anzi ramiamo la query eseguiamo la query ci chiediamo se abbiamo un risultato ovvero abbiamo almeno uno studente e sarà l'unico essendo la mazzicola chiave primaria abbiamo uno studente con tale matricola sì se sì allora cosa facciamo ci costruiamo uno studente a partire dalla matricola e dai parametri che andiamo a scoprire andando appunto a eseguire la query quindi prendiamo get string nome get string cognome e get string cds chiudiamo la connessione e ritorniamo studente nel caso appunto in cui studente non fosse stato trovato studente è stato fissato a null quindi andiamo a ritornare null studente DAO è stato implementato c'è un errore che andiamo a beccare subito eccolo qua certo perché io sto settando una matricola quindi non è un set string ma è un set int ovviamente possiamo ritornare a corso DAO sto facendo un po' avanti e indietro ma perché il mio percorso prevede un po' almeno quello che voglio fare è un aumento graduale della difficoltà non che la difficoltà qua sia molto più alta però in questo metodo iscrivi studente a corso che prende come parametri studente a corso vogliamo fare un update del nostro database partiamo sempre dalla nostra string SQL che in questo caso è un pochettino più difficile quindi insert credo di non sbagliare iscritti così punto iscrizione matricola codice di insegnamento i cui valori sono questi dati dall'utente ok fidarsi è bene non fidarsi è molto meglio ce la posso fare ok testiamo questa stringa non mi aspetto nulla se non non ottenere errori di sintassi quindi proviamo ad esempio con questo studente e con un altro corso che potrebbe essere ad esempio questo corso qua spero che lo studente non sia gestito il corso ma non sarebbe un problema ok duplicate entry però significa che la nostra query è corretta significa anche che questo studente è già iscritto al corso però l'errore in questo caso non sta nella struttura dell'acquiri che è corretta appunto quindi direi di andare avanti e procedere quindi con un boolean che è quello che vogliamo ritornare return value lo fissiamo a false e poi i soliti passi almeno per ora quindi connection punto a questo punto non punto ma uguale connect pb punto get connection ok prepared statement st uguale connection in questo caso punto prepare statement connection punto pre statement ok connection lo scrivo così a questo punto devo come sempre aspetto qualcosa meglio così try catch ok fino a qua nulla è cambiato ciò che vogliamo fare è settare i parametri che non abbiamo ancora settato un intero in questo caso quindi studente punto get matricola st punto set stringa coso punto get codice di insegnamento fino a qua tutto uguale adesso però ci definiamo un intero risultato e facciamo st punto execute update in questo caso perché vogliamo appunto fare un update se l'update va a buon fine significa significa che possiamo fissare return value a true ok a questo punto chiudiamo la connessione sempre bene ricordarsi di farlo e ritorniamo possiamo farlo qua return value se rest non fosse stato uno ritorniamo il vecchio return value che è fissato a false a questo punto anche corso DAO è stato implementato quindi siccome sia corso DAO che studente DAO sono stati implementati il package DAO direi che è terminato possiamo fare un test è buona norma farlo io faccio un test per provare i metodi che ho implementato con voi gli altri li avevo già testati in precedenza ovviamente è buona norma testare tutti i metodi vado a testare get tutti i corsi da CDAO corso DAO e utilizzo studente DAO mi credo uno studente con una matricola un corso dato il suo codice di insegnamento so che questo studente è iscritto a questo corso quindi vado a testarlo con il studente iscritto a corso posso fare così run as runiamo il test ok tutto si è andato bene abbiamo gestione dell'innovazione sviluppo gestione dell'innovazione sviluppo sviluppo prodotto ICT tutta una serie di corsi e poi abbiamo la conferma qua sotto del true molto bene possiamo passare a questo punto di nuovo chiudiamo package DAO passiamo al modello di cui abbiamo già visto praticamente tutto se non la classe model vera e propria ma in questo caso la classe model semplicemente va appoggiarsi sulla classe DAO perché non c'è nulla che il modello fa con i dati che gli arrivano dal DAO semplicemente va appunto appoggiarsi su il DAO si crea internamente ha internamente due oggetti student DAO corso DAO che vengono inizializzati appunto nel costruttore e poi tutti i metodi come ad esempio get studente si basa su student studente DAO get studente oppure anche cerca cose dato studente stessa cosa ma stessa cosa per tutti i metodi ovvero ci basiamo sempre sul DAO perché come dicevo prima non abbiamo nessun conto da fare con i dati che ci arrivano dal database a questo punto possiamo passare al controller che vi mostro già implementato per la maggior parte poiché non offre nulla diciamo di più di quanto già sappiamo fare nulla nessuna problematica in più settiamo il modello ad esempio abbiamo set combo items che è un metodo in più che bene vedere ad esempio per popolare il combo box andiamo sul modello ci facciamo andare a tutti i corsi facciamo una facciamo un sort sui corsi tanto per averli ordinati e poi li aggiungiamo al combo box per quanto riguarda invece i metodi vero e propri legati all'interfaccia ai bottoni dell'interfaccia abbiamo du cerca corsi che cosa fa du cerca corsi va a pulire il result poi ci chiediamo prendi la matricola dello studente di cui vuoi cercare i corsi fai pass int trasforma all'intero se hai dei problemi siamo in un try quindi possiamo intercettare ogni singolo problema se l'utente scrive qualcosa di sbagliato nella matricola salterà apparirà la scritta inserire una matricola nel formato corretto possiamo a questo punto avendo la matricola prendere lo studente basandoci sul modello che a sua volta si basa sul DAO se lo studente è nullo vuol dire che la matricola è inesistente quindi ritorniamo per quanto riguarda invece i corsi possiamo cercarli cerca corsi dato studente del modello di nuovo che a sua volta si basa sul DAO abbiamo una lista di corsi possiamo crearci un oggetto string builder cicliamo sui corsi per ogni corso ci creiamo una stringa con codici di insegnamento crediti nome e periodo didattico poi andiamo a capo e quindi ogni riga rappresenta un corso alla fine settiamo il risultato in txt result analogamente in do cerca iscritti al corso impugliamo l'interfaccia poi andiamo a prenderci un corso dal combo box se il corso non esiste chiediamo di selezionare un corso abbiamo poi degli studenti da prendere una volta che siamo sicuri che il corso che viene selezionato è un corso esistente ovvero l'utente ha selezionato almeno un corso perché siamo in combo box quindi l'utente non ha tante scelte model studenti iscritti al corso dal corso prendiamo gli studenti string builder cicliamo questa volta su studenti e ci creiamo appunto una stringa con tutti i studenti in particola cognome nome e cds per ogni studente e la appendiamo dovessero esserci dei problemi col database possiamo intercettare l'eccezione di connessione al database come nel caso precedente d'altro tu cerca nome analogo questo serve per il completamente automatico quindi tst result clear come di tst nome di tst cognome cerchiamo la matricola lo studente d'altra la matricola se lo studente non esiste diciamo lo studente non esiste e ritorniamo altrimenti lo studente sappiamo che esiste quindi possiamo completare il tutto con il nome e il cognome dello studente intercettiamo sempre le solite appunto eccezioni implementerei insieme a voi due scrivi tanto per approcciarci un po' a questo al problema più grande del console in questo caso che è quello di avere a che fare con i possibili errori dell'utente quindi proviamo a implementare questo metodo sono già partito da un'interfaccia pulita ho inserito un try perché so che potrò avere dei problemi sia per gli errori di connessione sia per il fatto di avere una matricola non corretta perché ovviamente per iscrivere una persona mi servirà sapere la sua matricola e se l'utente inserisce una matricola e la fa ci sono problemi txt matricola punto get text se è vuoto allora vuol dire che l'utente cerca di inserire di scrivere uno studente ma non ha inserito la matricola dello studente quindi inserire una matricola e ritorniamo analogamente magari abbiamo una matricola però non abbiamo un corso il problema è analogo selezionare un corso e ritorniamo siamo arrivati fino a qua prendiamo una matricola possiamo avere dei problemi ma siamo in un try catch ok a questo punto posso creare almeno studente la matricola sarebbe sufficiente ma avere lo studente direi che è meglio possiamo essere possiamo accedere a tutti dati lo studente poi quindi get studente data la matricola ok fino a qua ci siamo se studente però è nullo abbiamo un problema quindi txt result punto append text nessun risultato perché la matricola è inesistente e ritorniamo ci siamo quasi in txt nome punto set text possiamo scrivere studente punto get nome e in txt cognome ovviamente andiamo a settare il testo studente punto get cognome molto bene ci serve il nome del corso quindi corso uguale a combo corso get value ok e fino a qua tutto bene cosa ci manca dobbiamo fare un controllo magari lo studente è già iscritto al corso model punto il studente iscritto al corso abbiamo lo studente abbiamo il corso txt result punto append andiamo a scrivere studente già is scritto al corso e ritorniamo molto bene nell'esercizio era anche possibile nel laboratorio avere una versione in cui invece di avere il tasto iscrivi ci fosse la versione cerca scusate cerca e quindi a questo punto o lo studente era già iscritto al corso altrimenti qua ci potremmo mettere un bel else studente non iscritto a questo corso e quindi potremmo anche terminare qua dato che noi però abbiamo implementato il metodo per iscriverlo possiamo iscriverlo quindi se già è iscritto bene se non è iscritto ci chiediamo model punto iscrivi in scrivi studente qua c'è un addore iscrivi comunque il succo è quello iscrivi studente al corso studente e corso ok risalta punto appendix se non ce la facciamo e allora durante l'iscrizione al corso e ritorniamo se tutto va bene ex txt risalta punto appendix studente iscritto al corso e questo è quello che ci auspichiamo ok direi che a questo punto abbiamo sviluppato tutto manca un metodo do reset di cui c'è poco da dire perché andiamo a pulire l'interfaccia e anche la selezione del combo box a questo punto possiamo provare se tutto funziona questa volta possiamo farlo dannando l'applicazione perché in teoria tutto il resto è funzionante così ad esempio analisi dei sistemi economici cerca iscritti corso otteniamo iscritti del corso se inseriamo una matricola prova a inserire una matricola cerco il completamento ok trovo appunto il completamento automatico cerco i corsi questo studente è già iscritto a diversi corsi vediamo se ne troviamo uno a cui non è iscritto gestione dell'innovazione e sviluppo prodotto si c'è già è uno studente molto studioso diritto commerciale direi che questo è un corso che gli manca iscriviamolo anche a questo corso iscrivi studente iscritto al corso ora cerchiamo cerca corsi e compare diritto commerciale se ancora vogliamo iscrivere lo stesso studente al corso di nuovo diritto commerciale studente è già iscritto al corso io avessi scritto qualcosa di sbagliato qua invece inserire una matricola nel formato corretto direi che per questo laboratorio abbiamo terminato tutto il laboratorio si basava in sostanza su il DAO abbiamo avuto ci siamo messi alla prova con lo sviluppo dei metodi del DAO il modello in questo caso era piuttosto semplice perché non c'erano altri conti da fare il console rappresentava la difficoltà come abbiamo visto di dover e questo succede sempre di dover avere a che fare con ciò che l'utente scrive quindi dobbiamo gestire tutti i casi in cui appunto potrebbero sorgere dei problemi direi che per questo laboratorio è tutto ci vediamo al prossimo laboratorio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti